Anfaccia a tutti ragazzi, qui a Kamehameha, bentornati in una The Challenger Insime in parte 14 E ad oggi ragazzi vi ho portato un altro gameplay con Malphite Sono salito in posizione 150esimo con Malphite in tutto il mondo E volevo dirvi un paio di cose, ogni volta che iniziamo il video un paio di cose Volevo ringraziarvi innanzitutto dello speciale che ho visto già che sta tipo 800 like sopra Quindi, wow, ma anche se ho già fatto dislike, però 800 like ragazzi Forse è il sogno che li veremo a 1000 like Sono con Malphite top, ho preso Malphite per due cose Uno avevamo Shaco Jungle, quindi ci si viva un full tank top E due avevano Zerath, Zerath ragazzi è un champion che contro Malphite non può fare niente Cioè io riparto, boh boh, 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 non puoi fanca, non puoi fare niente Non puoi fare niente E se vinciamo questa ragazzi siamo Diamond 3 Perché sono Diamond 4 in promo con una vinta Quindi raga Andiamo, andiamo Siamo con Triunetali quindi iniziamo a ricristalli in flask E niente Pensando solo un paio di cose sto pensando Noi abbiamo due Knight, eh, questa cosa è due Knight è buona Il problema è che Il problema è che questo qua non è Di solito quelli che ho usato con il solo occhio Comunque sono molto alti in questo livello, non in Diamond Sono comunque sopraggiù qualificati per 3000 Questo non è neanche qualificato per 3000 Quindi Speriamo bene Il microfono dovrebbe arrivare il 26 da quanto scrive Amazon ragazzi Quindi a breve arriverà anche il microfono Quindi aumenterà il suono dei video Yeah Ok Secondo me non vuole smitarlo Per questo non ti assai Sto muorrendo le giacche in box Nooo Inizio di E Anche se in Italia è AP però Lei è una bella skill per malfight in Italia Un champion K2G a 30 Tu si l'hai in mezzo ai minion Gli arrivi l'attack speed che è molto buono Perché di solito che fai in Italia? Ti lancio la Q Vai in forma Kogaro Ti fa la combo Poi mentre arriva e via Ti lancio un'altra Un'ora nell'attacco Missa 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 Quello quando andai invadendo il boom a sentire di missa vuol dire che Deve stare molto attento C'erano ancora all'uno Infatti Per il tempo non ce l'abbiamo noi Buone signori Di da lì non so che cazzo stia facendo Non so che c'erano no vabbè nida e mene nida e mene lasciatela fare non so che cosa cazzo abbia fatto e German è ancora a livello 1 quindi sarà molto dentro il problema è che ora per seguire col cannone io per fare questa cosa quindi not good ragazzi not good non è buono questo ah lei ha iniziato dai campi piccoli ecco perché o forse no iniziava per forse dai campi piccoli comunque l'ha arrivato per dimmi di farlo per fare quella cosa a botta e scende che poi neanche se vivo perché alla fine neanche l'assess ho preso niente è zero e l'ora sta anche di expo sopra me e vabbè capo di qua vieni vieni oh come on mi ha preso 4 volte cazzo ho sbagliato io mezzo minion che palle ho voglio dire una cosa io quando registro gioco male non lo so perché gioco male poi poi gioco male quando registro gioco male sapete sapete perché devo concentrarmi sul fatto di intrattenervi quindi non mi concentro più sul game ma più sul fatto di intrattenere ecco l'unico quindi ora raga durante le rotte challenger anche se starò zitto 40 punti gioco meglio quindi starò zitto poi non lo so come ha preso un po' con l'acqua questo voglio dire non so ma tre pure villate adesso come rassa di cui questa vabbè non è un worth perché lei ha preso l'expia o no abbaglito al culo raga abbaglito al culo mi dava come niente sto giocando malissimo sto giocando non pensavo l'ho presa troppo l'ho presa troppo scialla come cosa mi ha detto nida di top mamma la gioco un po' aggressiva invece sto sbagliando tutto ma il fatto non si gioca così voglio busciare la wave devo giocar passivo guarda lei c'è al 5 lei al 5 la wave busciata devo giocar passivo non me la defambecheria dall'altro prima o basta vaffanella ora che ho più minion di lei devo cercare il trade si trade in questo caso questi trade cazzo questi trade chi è tanto come la furro col mana si prende il 6 è morto ma perché io sono così stronzo che partita del cazzo raga scusate sto giocando veramente male morirebbe tutta quella farm mi sto giocando veramente male quella cosa poi se mi ruota il culo ritorno a fare video senza web ma anche se l'ho comprata non credo che cazzo uno tre ma sarebbe pure che l'ha l'ho sbagliato io qua proprio dovevo aspettare dovevo stare dietro miglia ma che cazzo sta a fare niente dai cazzo lei fa il piccolo danno ma non lei fa quel piccolo danno eh ma ho sbagliato gli ho regalato troppe kill troppe c'ho la shin non mi devo esporre per far il vionei magari no perché ho fatto il cazzo vabbè bene gli ho flashato via la cube però ovviamente lei da qui mi ha preso quella qui e vabbè lei sta all'otto ora qui ora mi ha pushato la wave ma non sapeva che io c'avo il tp sto giocando malissimo raga sto giocando malissimo eppure vi giuro che non ho mai giocato malo un game in sto periodo mai gerbano e fegato mi stanno carriando ma da cazzo sta cosa non vale fammi chiudere come me la devo giocare è difficile perché quella vita di quella shin sarebbe come una vita di quella shin cioè appena la prende fa danni a trocci non vuoi push la wave a lei per fortuna oh vai come gli push vai ma è questa bot quella ma la sti cazzi non mi da il cazzo che mi carriera perché io devo giocare bene ferrata un altro cannone so io che devo giocare bene non è che mi devo carriera gli altri e mi sta andando a cazzo sta partita perché sto giocando di merda sto giocando di merda semplicemente mi merito di perderla non merito e io la cercherò solo per farvi vedere che certe volte ci sono dei game di merda ma proprio morti stupide da bronzo sta morti che faceva non si riesca a recuperare un pochino da lì qua ha fatto la cazzata ancora morta un momento qua eh no vabbè ok niente niente vedrà vai tra vai tra bro facciamoci le mercoli togliamo di tipi top lei sta andando a p cioè sta andando a d più che altro però quella cazzo di scena non fa danni anche a p e io non riesco a fare abbastanza danni perché non ho abbastanza o ma cazzo non ho preso ma quella quella fa la cazzata c'è 40 secondi all'ultimo ma va dire alla lancia un'altra lancia 25 secondi all'ultimo devo tenere la sua giù non devo sprecare più male per la coppia a caso è massimo perché mi servirà ora anche se mi faccio rassare metto le a mezzo e vi faccio le mie frega ragazzi tanto c'è la posizione mamma mia ma che bel timore c'ho dovevo andare passivo appena ho aiutato quella chile ho detto perché devo andare passivo appena ho aiutato quella chile mi ha dato un altro chile poi ci sono stato un momento che io me la poto killare lei e ho fallato un'altra con una su quattro domani la potevo killare lei in quel momento oppure mi ha sfruttato l'occasione cioè mi serviva un 6 invece che ho fatto prendere uno stronzo d'acqua e lei ovviamente ma non ha sfondato eh dopo è andata si sta facendo a pivo comunque lei mamma mia signori è tornato è tornato ed è così cazzo tornato signori regala perché lei ha il tp quindi ho detto se cazzi potrei chiedervi questo ed aumentare il cooldown ma è quello che farò è quello che farò appunto perché per due motivi uno visto che me la so killata ora e avevo questa magic resist sicuramente me la rivelerò un'altra volta ma quello c'ho proprio più cooldown quindi è proprio una cosa scialla due perché mi dà più armor quindi c'è sta c'è sta c'è sta c'è sta mi hanno carriato sto match mi hanno proprio carriato di brutto mi hanno carriato di brutto bravi 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 un pochino città io devo dire perchè mi hanno tirato loro, cioè è giusto che si va così ora lei sta venendo in mezzo a mia e mia quindi io posso fai darla tranquillamente mamma mia che è quello che non mi ha preso ora lei ha sbagliato perchè ora lei starà sotto a me ma appena lì c'ho l'ultimo, indovinate chi piamba il cocco in faccia lei e sia 10 secondi manca 5 secondi dai don't give a fuck bro so more fight è recuperato e so more fight è recuperato signori c'è ora non mi trovo tutto il terreno, ho recuperato anche io quindi credo che possano sorrendarla tranquillamente buono, vedete raga se mi riesco a rimettere in testa certo l'altro ma in caso, no, che cazzate che ho fatto raga nirli, a meno che poi ho recuperato un pochetto non sono ristabilito, sennò quelle sono cazzate proprio che neanche in bronzo le fanno ecco l'uomo mori, dove va? boom signori, gliela stila ok signori a casa ora ho anche più magic resist e più ap quindi non potrà fare niente ora me la chiederò sempre la dovevo solo aspettare il cold on drop ulti sennò non ci stavano 3-4 non ci stava che poi è brutto farsi score perchè te rovinano il ki di A mi capisco che è nient'altro il ki di A kill, death kills, death, assists ma sei main bro zzz che dannio bello oh arbitro vabbè meno me la sono righillata lei mi di killo lo stesso c'è una bella sunflower cake no ma è così è così buono ho recuperato sto 4-5 per carità però mi non ho recuperato da quella situazione del cazzo che era i moni da io me la faccio sempre quindi aia no questa era brutta noi abbiamo dato la disinibizione del fatto che possano recuperare double guarda un bot si qua ti fanno ci metti su un della ultima ti fanno oh così presa l'ho presa figlio di mazzoccola gli ho flashato a buffo sinceramente però vabbè veramente volevo flashare e cercare di prendere tutti e due e ti mando in mezzo no? poi ho preso solo zel però l'ho cercato a prendere tutti e due perché non mi ha dato l'assist you fucking kidding me gli ha driven gli ha fatto un critazzo avevo driven non è cioè driven in italy non so problemi quando hai un flashback in team poi abbiamo una catering che è molto più fidata delle tre poi c'è un shago 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 se bravo solo io pensavo questo fa schifo se l'hai capicchiato questo inserbano dai regaliamoci facciamo una giant's belt perché di armor tanto jumbo e pacione abbiamo è la vita che ci manca quindi ce la impreghiamo subito qua dobbiamo gruppare perché cazzo saremo troppo sapete quanti game ho visto perché la gente cazzera così tanto e poi poi perde ma lui là non ci potrebbe stare main jar signori lui è main jar signori partita d'aggressione ottima di tempo fai che cosa cazzo cazzo te becco ahhh dove che asso vai eh boom signori non sono andato ggwp ma mi è meglio a chi die dai 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 ggwp ragazzi mamma mia aia bella quella partita bella partita bella partita mi è piaciuta mi è piaciuta un pochetto questa partita col pizzetto signori you have been promoted to diamond 3 perché mi dà questo cazzo ma chi è chi è e siamo diamond 3 ragazzi siamo diamond 3 si signori puntiamo al diamond 2 io spero che il video vi sia piaciuto ragazzi vi è piaciuto vi è piaciuto lasciate un bel like se vi va a commentare se vi va a condividere a faccia a tutti ragazzi da cani lupo bella vi è piaciuto